signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e in questo momento in realtà sono in ferie questo è il primo video della serie che ogni estate faccio sul modellismo io vi ricordo sono un master della scorsa generazione mettiamola così prima del prima dell'avvento dei supporti informatici quindi per i master del mio periodo realizzare fisicamente elementi scenici era ancora una delle abilità fondamentali dell'arte del masteraggio adesso è andata perduta ma durante la pausa estiva durante il mese di agosto io faccio questo periodico questo annuale piccolo revival per riportarla in auge ovviamente si tratta di elementi scenici relativamente generici che possono essere utilizzati o per il gioco di ruolo proprio fisicamente al tavolo adesso che finalmente si può ritornare a giocare dal vivo oppure per più genericamente il war gaming che so che anche molta gente del canale comunque pratica ci sono molti altri giocatori di warhammer oltre me il mese di agosto di quest'anno lo dedicheremo alla costruzione di una torre in mattoni grezzi per diciamo un'ambientazione generica questo è solo il primo video della serie ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere che cosa ci servirà per creare il modello di questa estate e come sempre iniziamo dai materiali quest'anno niente di nuovo ma avremo un focus diverso su roba che abbiamo già visto comunque di base vi serviranno ovviamente come sempre forbici e una taglierina in questo caso una taglierina particolarmente affilata io ne ho presa la nuova vi consiglio di fare la stessa cosa squadrette righelli per poter tracciare le misure e poi cartone da 3 mm questo lo usiamo sempre lo comprate in cartoleria dell'altro cartone sottile potete usare queste sono scatole dei biscotti comunque lo recuperate e la novità tra virgolette di quest'anno un foglio di polistirolo estruso questo è si compra come materiale isolante in ferramenta al brico costa relativamente poco ma dipende dalle dimensioni noi ne useremo una quantità ridicola io questo foglio l'ho comprato due tre anni fa per un altro progetto e questo è quello che mi ha avanzato in più useremo nuovamente del nastro telato questo per fare i pavimenti e in questo caso specifico io ho trovato un questo è il piatto di una torta che era esattamente delle dimensioni che mi servivano se no qualcosa per fare la base può essere sempre fatta col cartone o magari una base fatta in legno di balsa compensato quello che vi torna più utile cominciamo con la parte fondamentale questa sarà una parte relativamente noiosa ma in realtà se questa non viene fatta bene tutto il resto a catena fallirà come state vedendo nelle immagini che passano io sto prendendo delle misure sulla base che abbiamo scelto perché la base sarà quella su cui tutto il resto del lavoro poggerà quindi la prima cosa da fare è calcolare lo spazio che poi i mattoni che costruiranno la struttura andranno a occupare i mattoni li decidiamo noi e io la decisione che ho preso è che saranno spessi mezzo pollice quindi ho considerato per prima cosa uno spazio di mezzo pollice tutto intorno alla base in più avremo una scala che sale e anche intorno alla scala ci saranno mattoni quindi anche all'interno bisognerà calcolare mezzo pollice di scarto per farci stare effettivamente i mattoni la parte che rimarrà fuori sarà la nostra base poi effettivamente il tetto della torre e sarà alto tre pollici sull'altro lato ci saranno i scalini e gli scalini sono un attimo complicati quindi lascio direttamente la parola a il cae del passato che ve lo spiegherà allora qua io sono il cae del passato rispetto a quello che ha fatto l'annuncio del video anche perché per adesso non l'ho ancora registrato ma ho voluto fermare un attimo la cosa perché c'è una roba relativamente importante di cui è meglio discutere detta così sembra che sto per annunciare un lutto allora questo adesso vedete poi probabilmente qua le immagini che scorrono sembra una parte banale ma dovete farci attenzione perché quando fate il calcolo degli scalini dovete essere assolutamente sicuri prima che le miniature ci possano poi effettivamente stare sopra sia che lo facciate per il gioco di ruolo sia che lo facciate per il wargame perché se poi alla fine non ci si possono mettere miniature sopra semplicemente perde di senso sprecare il tempo per fare gli elementi scenici quindi la cosa migliore da fare è usare proprio la basetta delle miniature che utilizzate normalmente sono dei cerchi da un pollice di diametro ma qualunque sia il formato che utilizzate per giocare prendete quelle basette e controllate prima soprattutto controllate prima che tutti i gradini possano essere uniformi nello spazio che avete per realizzare ora io qua ero diciamo nelle ristrettezze ed è andata bene che sono riuscito a fare stare i gradini in maniera anche regolare non è detto che vada bene anche a voi soprattutto se fate come nel caso mio usate come base qualcosa di recuperato ora questo era il fondo di una piccola torta se vi interessa e sì l'ho mangiata alla faccia vostra comunque questo è ottimo perché è estremamente duro e estremamente spesso quindi per essere la base di un elemento scenico è esattamente quello che serve in più fare dei tagli rotondi senza che diventino regolare difficile quindi ho preferito usare quello che già avevo e come ho detto mi è andata bene con le misure fate attenzione a prendere bene le misure passa quello con la moto fate attenzione a prendere bene le misure in modo da avere una base regolare per poi mettere gli scalini sopra non necessariamente ottenete un semicerchio potenzialmente se questo fosse stato più grande magari tutti e sei gli scalini sarebbero potuti rimanere in un solo quarto perché essendo molti più lunghi questa parte questo cerchio interno è potuto essere molto più largo e quindi diciamo in un cerchio largo il doppio tutti e sei gli scalini stavano in un solo quarto dipende dalle dimensioni di quello che state realizzando il motivo per cui ho interrotto il video è quello di dirvi in questo momento di prima di fare qualsiasi altra cosa misurate che le scale siano a tema perché io me ne sono reso conto mentre disegniamo le scale che ho avuto fortuna che la dimensione era abbastanza regolare da farne fare 6 lasciando un semicerchio perfetto all'altra parte potreste non essere così fortunati ok la parte non scriptata finisce qui continuate con il video tornando a noi ora dobbiamo fare un discorso sull'altezza per convenzione io considero un piano tre pollici quindi dovremmo poi calcolare i vari scalini in modo che arrivino ai tre pollici d'altezza in questo caso ogni scalino sarà mezzo pollice più alto del precedente quindi in realtà saranno cinque scalini perché il livello zero non avrà uno scalino e in realtà l'ultimo livello sarà poi già il piano della torre come vedete lo direttamente segnato sulla base per evitare di sbagliarmi sì lo so forse l'ho tirata eccessivamente lunga sulla parte delle scale ma devo dire che è qualcosa che per me è difficile e quindi per me è stata la parte più difficile da creare dell'intero modello e ho cercato di evitare il problema chiunque altro abbia in realtà i miei problemi con la geometria degli elementari comunque questo è solo il primo video della serie ne seguiranno altri tre la settimana prossima andremo a vedere come costruire la struttura interna cioè la struttura portante dell'intero modello fino ad allora come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se volete discutere con il resto della community del master che ha in descrizione trovate i link al gruppo i discord e al gruppo i telegram su cui ci si raduna la piccola banda che è la community di questo canale per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video